Per anni, il mondo ha vissuto una realtà distorta, storie manipolate, verità nascoste. Non c'è di più rispetto a quanto ognuno di noi ha mai potuto sospettare. Perché nessuno di noi è stato capace di vedere la realtà nella sua interenza. Finora. Check. Sei. Yo. X come i coni dalla F non sta per fattore, leggi il nostro nome impresso sul campo del fattore. Senti il flow, trattore. X file, autore della potenza che scaccia il tuo raggio d'azione. X come i coni dalla F non sta per fattore, leggi il nostro nome impresso sul campo del fattore. Senti il flow, trattore. X file, propone. Gli dati scomparsi dal reparto archiviazione. X file, autore della potenza che scaccia il tuo raggio d'azione. X file, autore della potenza che scaccia il tuo raggio d'azione.